L'Occidente è un territorio fatto di materialità, in cui lo spirito è delegato a un qualcosa di astratto che difficilmente conosciamo, difficilmente si capisce che cosa sia lo spirito, che cosa sia l'anima, ma ben conosciamo tutto della materia. E quindi la scienza e qualsiasi campo della vita, l'economia, è molto informata riguardo a cosa sia la materia, riguardo ai movimenti flussi di denaro del nostro mondo. Ma che cosa sia la materia stessa, da dove ha origine e che cosa sia lo spirito, che potremmo dire che è l'estremo opposto della materia stessa, nessuno lo sa. Ecco, la materia non può esistere se non c'è al suo interno lo spirito stesso. Noi siamo, come ho parlato in altri documenti, noi siamo all'interno di un organismo molto più grande. Noi siamo cellule, possiamo definirci cellule di un qualcosa che va al di là della nostra comprensione. E quindi come cellule di un organismo molto più grande, non c'è un qualcosa all'esterno che sia separato da me. È un tutto uno. Tutto è uno, si dice. Tutto è Dio, tutto è quell'essere che ci ha creato. Inevitabilmente lo spirito calandosi nella materia, attraverso l'anima, si incarna, si incarna in un essere umano, in un essere animale, in un essere vegetale o minerale. E incarnandosi in forme così diverse crea quello che noi possiamo definire la separatività. Io mi credo separato da ciò che mi circonda, così posso sviluppare l'individualizzazione. Ed è attraverso il processo di individualizzazione che l'essere umano è così, l'anima è così, lo spirito diventa cosciente di se stesso. Si rende conto di essere spirito, appunto, attraverso il suo contrasto, attraverso il suo opposto, attraverso la materia stessa. E quindi l'anima, come all'interno lo spirito, si cala nella materia e crea la materia stessa, crea le forme esteriori per diventare cosciente di se stessa. Non è un caso che in Occidente ci sia estrema materialismo, estrema materialità, estrema necessità, fame di quello che è materiale, estrema volontà di potere, di prevaricazione, non di collaborazione ma di competizione. E' evolutivo per la maggior parte delle persone che vive in questi luoghi, perché la coscienza collettiva, che è quella che va a formare poi la materia stessa, che è quella che va a formare poi gli eventi che come collettività viviamo, la media di quelle coscienze porta a quello che noi stiamo vivendo in questo momento. Ma ognuno è diverso e visto che ogni individuo è diverso ci sono individui un po' più evoluti interiormente rispetto alla massa. Ecco, questi che sono, che si distinguono da il resto delle persone che vive di sola materia, queste persone vedono il mondo esterno e non si ritrovano in tutto ciò. Si domandano, ma è possibile che non ci possa essere altro al di là della materialità che vivo? Sì, c'è altro e quelle persone così cosiddette diverse sono chiamate appunto per elevare la loro stessa esistenza, ha la funzione di elevare la massa di persone che vive ad uno stato vibratorio ed energetico sotto la loro possibilità. Quindi, trattando di argomenti spirituali, parlando attraverso le opere artistiche, le opere creative, questi individui particolari, quelli che sentono all'interno già l'anima e stanno attraverso un percorso interiore, individualizzandosi con la loro divinità, e che queste persone sono chiamate ad elevare, a trasmettere, attraverso la loro presenza, attraverso le loro opere, a parlare di ciò che ancora gli occhi dei molti non vedono. Grazie